12 bande, 6 gruppi di maggiorette e 2 presentatrici. Sono questi i numeri della sesta edizione del festival delle bande musicali e maggiorette città di Pratola-Pelinia che si svolgerà a Pratola dal 19 al 23 agosto che è remesso a organizzare l'associazione Millennium Amici della Banda. Cinque sera dall'insegna della grande musica e del ricordo dei personaggi che a Pratola nel territorio hanno lasciato il segno come Gino Ventresca che sarà ricordato il 19 agosto, Michele Celidonio il 20 agosto, Bruno Cautere il 21 agosto e il compianto Domenico Ciagli il 22 agosto amante delle bande sempre vicino al festival. Mi ha fatto molto piacere che anche le famiglie ci hanno dato il loro via. Abbiamo voluto omaggiare il compianto Gino Ventresca che è stato un personaggio in Canada, il senatore Michele Celidonio e poi due personaggi locali di cui uno Bruno Cautere che era un grande sportivo, grande amante della sua pratolanità e poi il compianto che era un obbligo, un dovere da parte mia. Voglio omaggiare il professor Domenico Ciagli. Due le novità di questa edizione, l'esordio della Dievska Orchestra d'Eta, Banda Polacca e la giornata dedicata alla Grande Guerra che sarà il filo conduttore della serata conclusiva del festival il 23 agosto con la grande parata di bande musicali e maggiorette dove si esibiranno le bande di Pratola Pelini a Bossi sul Tirino, Torrese di Torri in Sabina, città di Pesco Rocchiano, città di Città Ducale, città di Forano, città di Monte Compatri, l'attesissima Popeye Street Band e il complesso Polacco. Ogni giornata sarà scandita dalla sfilata nel centro storico di Pratola alle ore 18.30 e dal concerto serale alle ore 20.30 delle bande in piazza Nazario Sauro a partire dal 19 agosto. La Kermessi sarà presentata stamane in conferenza stampa da sindaco di Pratola Pelini Antonio De Crescentis, dall'ediatore e anima del festival Pino Basile e dell'Isabetta Pizzo Ferrato che quest'anno presenterà la manifestazione assieme a Grazia di Dio. E' un appuntamento immancabile nel nostro cartellone. Vedere un'associazione che ogni anno si mobilita in questo modo è un segno importante per la nostra vitalità del territorio, detto De Crescentis. Devo fare i miei ringraziamenti a Pino Basile, a tutta l'associazione Millennium e a tutte le associazioni della comunità che hanno inteso aderire a questo progetto perché questa iniziativa consentirà a tante persone di venire a Pratola, sarà un motivo di attrazione e quindi noi avremo tutto il vantaggio di ospitare queste persone che verranno non solo da questa provincia ma anche dalle altre province dell'Abruzzo. Il Comune come ha sostenuto il festival? Il Comune sostiene questo festival come sostiene le altre iniziative mettendo a disposizione tutti gli spazi per la logistica, mettendo a disposizione tutti gli interventi per la polizia, sia prima che dopo gli interventi, la polizia municipale. L'obiettivo del festival, ricorda Basile, è quello di far conoscere le bande per sollevare l'economia del territorio e per porre Pratola al centro del comprensorio. Vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, coloro che mi sono stati vicini nell'organizzazione e tutti gli sponsor che hanno finanziato la manifestazione. Pratola al territorio perché noi quest'anno, per dire, di queste 12 bande, 5-6 bande arriveranno, per dire, la domenica arriveranno dalla mattina e pranzeranno qui, insomma, spenderanno qualche soldino loro qua, faranno i visiti per Pratola, potrà essere qualcuno che verrà sul Mono a vedere pure la patria dei compretti. Cerchiamo di far smuovere un po' di economia. Poi mi devi permettere un'altra cosa, che io devo ringraziare, a parte sempre il Comune, ma una marea di sponsor che ci danno veramente una mano. È un altissimo compito, anche perché è la prima volta per me. Sono felice di aiutare Pino, perché si è sempre mostrato una persona gentilissima e squisita con noi. Poi lo conosco, come ha detto lui, da piccolina e l'ho seguito anche nel gruppo Mazzieri quando faceva il presidente del Comitato della Madonna della Libera. Il primo appuntamento della Kermessa è in programma per mercoledì 19 agosto con la Banda Città di Ailano, che il festival cominci.